buon pomeriggio care amiche e cari amici quante notizie oggi in questo video notizie curiosità suggestioni e dei nomi nuovi per quello che riguarda l'eventuale allenatore del milan ma parleremo dopo quello che conta innanzitutto vi invito sempre a iscrivervi al mio canale youtube ad attivare la campanella a mettere i vostri like ai miei video oggi su instagram e beh si gioca contro il napoli ho voluto ricordare un gol di pato contro il napoli in quel gennaio 2008 dopo la presenza dopo la passerella del presidente berlusconi che ha alzato ve lo ricordate l'ultima coppa vinta la coppa del mondo alla fine di un 2007 straordinario ricordo ancora la sua sciarpa a blu con dei puntini a pua dei puntini bianchi o gialli non li ricordo il colore però splendido il presidente che fu osannato come sempre da tutto il pubblico di san siro poi il debutto in una squadra dove giocava zedorf ronaldo cacca e pato come d'incanto lui è venuto da andalasia e ha realizzato quel gol sono impazzito un gol splendido pato uno dei più grandi giocatori della storia del milan e uno anche dei più sfortunati giocatori della storia del milan e quindi andate a rivedere questo gol splendido cari amiche cari amici però partiamo subito dalle notizie di campo io mi auguro che mi seguiate con affetto interesse senza ironie sarcasmi perché vi do delle notizie e a me piace dare delle notizie e mi piace che chi mi segua abbia delle notizie le possa dare perché posso sbagliare ma in certe in certi sotto certi aspetti raramente perché chiedo alle fonti vi avevo detto attenzione ciao la settimana prossima vi ho detto la settimana scorsa incomincerà a unirsi a fare qualcosa in più e in effetti oggi ha partecipato a metà seduta sotto gli occhi di slatan ibrahimovic per me nessuna sorpresa e vi avevo anche detto attenzione la settimana prossima mentre il milan poi sarà impegnato contro il ren lui proseguirà intensificherà non credo pronto per il ren all'andata no ma per la panchina contro il monza e o per la panchina contro il ren partita di ritorno ciao ci sarà e se vi dico adesso che sia tomori che lo stesso calulù saranno pronti per non pronti saranno incominceranno a unirsi al gruppo a fine febbraio come vi ho detto vedrete che se non ci sono intoppi ci auguriamo non ci siano sarà cosa saranno così sarà così invece una piccola correzione riguardo la formazione ero convinto che salissero le quotazioni di musa invece colleghi ben informati mi hanno detto guarda che non fa impazzire pioli musa nei due ecco che allora come aveva anticipato questa mattina giustamente la gazzetta dello sport ci sarà ancora spazio per adli quindi saranno adli e benasseri due centrali così voglio dire sono candidati autorevoli a essere due centrali con l'oftus chic diciamo dietro la punta giru a destra pulisici a sinistra le ha la difesa ancora con i buoni chier gabbia anche se è stato il mio collega ieri riccardo trevisani un po' severo coi due che stanno dando il il massimo del loro rendimento e il milan pur prendendo gol in ogni caso loro cercano di dare il loro apporto addirittura gabbi ha realizzato anche un gol a destra gioca giocherà calabria a sinistra teo ornandez in porta megnan e quindi vi ho dato subito le notizie di campo una piccola variazione ieri vi ho detto in anteprima e ve lo confermo il rogito del terreno di san francesco ho detto che il costo dell'operazione 40 milioni vero 40 milioni ma non solo per i campi ovviamente ma è stato un investimento per il primo investimento non legato solamente ai campi cioè ai prati ai campi dove verrà costruito e verranno costruite le infrastrutture e lo stadio ma anche in generale per la partenza di tutte le operazioni legate allo stadio non proprio per i fili d'erba ecco chiariamo subito e vado ad approfondire ho approfondito questa cosa e ve lo dico ancora con più precisione però veniamo all'altro tema l'allenatore allora vi avevo detto sì non parlo dell'allenatore però quando si ha qualche notizia o qualche ipotesi o qualche indiscrezione bisogna parlarne allora io sono arci convinto che le parole di prima di Zlatan Ibrahimovic poi dello stesso dello stesso Giorgio Furlani l'altro giorno la presentazione delle due maglie cioè pieno sostegno a Pioli sia sono convinto che non siano come qualcuno le ha liquidate tanto cosa devono dire no io sono convinto che Stefano Pioli sia ancora un candidato molto molto attendibile per guidare il Milan alla prossima stagione tutto dipenderà dai risultati di questi ultimi tre mesi se i risultati come tutti dovremmo attenzione non ho sbagliato non tutti ci auguriamo tutti dovremmo augurarci perché è incredibile che qualcuno perché vuole aver ragione su proprietà o su allenatore tiri contro perché ci sono anche questi io spero che il Milan vinca sempre io che questi video li sbagli tutti non mi interessa a me la medaglia non interessa mi interessa che il Milan vinca non di aver ragioni su a b o c chiariamo subito i milanisti veri non vogliono aver ragione eppure ci sono quelli che vogliono che sperano che vanno male hai visto abbiamo cambiato hai visto mi hai cambiato proprietà hai visto no speriamo che il Milan vinca e con questa proprietà e con questo allenatore vinca la cupa del mondo dieci anni consecutivi sarei l'uomo più felice del mondo allora quindi per me pieno sostegno a Pioli non sono parole buttate lì così e quindi se come mi auguro molto mi auguro la stagione sarà come come l'estate 2020 non escludo che non adesso non fra un mese non fra due mesi ma ci possa essere la conferma di Stefano Pioli che probabilmente sta cambiando anche metodologie di allenamento e quindi ha in mano una squadra che lo sta seguendo quindi ho premesso però dobbiamo anche dire che il Milan sta ovviamente sondando perché non vuole essere impreparato io ve lo dico bello sereno poi se sbaglio tirerò il petto di tirerete dei vostri dai vostri dardi io non credo né ad Antonio Conte né a Tiago Motta non credo a queste a questa possibilità mi sbaglio se mi sbaglio non credo e invece mi diranno mi diranno e no dovevi credere io dirò forza Antonio Conte forza Santiago Motta forza soprattutto Milan premesso questo ecco che andiamo invece a qualcosa di diverso proprio ci sono voci un po in tutta Europa di allenatori e ieri dalla Spagna allora per quello che riguarda Francesco Farioli non dico nulla di nuovo è un allenatore che il Milan sta seguendo è dell'89 35 anni quest'anno ha fatto bene in Turchia sta facendo benissimo nella squadra per la quale io tifo il Nizza una squadra che ha buoni giocatori ma certamente essere seconda davanti al Monaco davanti al Lyon che si sta riprendendo davanti allo stesso Marsiglia del caro Gattuso che questa sera deve vincere col Metz e Rino questa sera deve vincere col Metz quindi Farioli è certamente il candidato francese ma ci sono voci anche per due allenatori che il Milan secondo un sito spagnolo e secondo un sito tedesco sta seguendo uno è Miguel Angel Sanchez Muñoz chiamato detto Michel Michel è l'allenatore giovane a 48 anni diciamo mezza età non è giovanissimo del Girona ha lavorato nel Raio Vallecano poi ha preso il Girona e l'ha portato subito dopo quattro anni nella Liga era in Liga nella Liga 2 ed è andato nella Liga poi l'anno scorso è arrivato a 3-4 punti dalla conference con il Girona e quest'anno è sempre stato primo o secondo in lotta con Real Madrid avessi detto il Real Madrid è un allenatore o mi sono scritto un appuntino adesso ve lo faccio sentire vi faccio sentire le parole di Michel e le parole di complimenti dopo la partita che il Girona ha vinto 4-2 a a proprio Barcellona sentitelo perustè il Girona è il migliore equipaggio il chilone che ha passato questa settimana per oggi? capamente la proposta è la migliore che ho visto ancora valenti, apretando, giovan, non tirano il balone, non la rifano, un po' lo che queremos noi per lo tanto è visto un gran espectaculo per la gente siamo un gruppo che sempre ha dominato in questa Liga tutti i partiti non uno, che fu il della Real Sociedad del primo e ho gli ho dite a tutti i giudici a tutti i giudici, esperar un partito dove non dominiamo e ciò può essere capace di avere questa capacità con il soffrimento di stare dietro del ballone che quando la tengiamo non la tiriamo e ciò io credo che l'equipo lo ha intenduto alla perfezione. I due o tre primi passi erano clave davanti una pressione molto alta, ciò abbiamo raggiunto, abbiamo stato capace davanti una pressione molto alta di grandi futbolisti volcati in cima nostra di essere capaces di generare Ecco, lui dice di Michel, ciao, la loro proposta di gioco è senza dubbio la migliore che ho visto finora sono coraggiosi, pressano, non lanciano la palla né la sorteggiano, il risultato che è stato un grande spettacolo per la gente, ci congratuliamo con il Girona e siamo convinti che resteranno a lungo tra le prime, questo ancora qualche mese fa e così è stato. Quindi attenzione a Michel dalla Spagna mi avevano detto guarda che c'è un allenatore giovane che è un po' seguito un po' da tante squadre e mi hanno detto anche dal Milan. Ma ancora più curiosa l'altra figura, si parla dalla Germania e diventerà un grande allenatore, ecco perché il Milan, anche il Milan lo sta osservando, sondando, seguendo, monitorando. Fabian Hünzeler, seguite questo nome perché diventerà un grande allenatore, sapete di che anno è? 93. Eres è stato dietro Timo Schulz, l'allenatore in seconda del San Paoli Zweite Liga tedesca, mi direte, ma almeno non va a prendere i soliti superficiali, ma almeno non va a prendere un allenatore della Zweite Liga tedesca. Allora il signor Fabian Hünzeler è seguito da tutti i club tedeschi e da molti club europei, ha preso il San Paoli, aveva lavorato insieme a Timo Schulz, poi è diventato il primo allenatore di 31 anni, ha preso la licenza pro-efa nel dicembre del 23, quindi poche settimane fa, è arrivato a San Paoli che era quindicesimo nella scorsa stagione, ha vinto dieci partite consecutive, ha incassato tre gol e PAM ha portato al quarto posto e ha sfiorato subito il passaggio in Erste Liga, nella Bundesliga. Beh bene, quest'anno il San Paoli, che è l'altra squadra di Hamburgo, il San Paoli è un quartiere come molti sanno, è in testa nettamente alla Zweite Liga, 42 punti, 37 le altre. Il San Paoli sta dando spettacolo e tutti stanno seguendo questo ragazzo che potrebbe essere il futuro Klopp e il futuro Nagelsmann e il Milan lo sta monitorando. Pieno sostegno a Pioli, ma non bisogna avere la benda sugli occhi, bisogna guardarsi intorno. Attenzione, di Fabio Nunzeler sentirete parlare. Io non dimentico mai per concludere che se Allegri lasciasse per qualsiasi motivo la Juventus, potrebbe essere un candidato, sempre, ripeto, che non venga confermato il candidato più attendibile, Stefano Pioli. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegati, seguite Farioli, lo conoscete già, Michel nel Girona e seguite Fabian Nunzeler e gli amici che mi seguono, i miei folio diranno, il primo che me l'ha detto è il mio amico Carlo Pellegati.